Incredulità, sgomento, dolore per la scomparsa di un grande siciliano che ha amato la sua terra, scandagliandone le profondità, cogliendone l'anima con i suoi sconfinati e appassionati studi di cui ci faceva dono. Sono queste le parole di Francesca Valenti, sindaco di Sciacca, città che Sebastiano Tusa, uno dei 157 passeggeri del Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines, morti nello schianto del volo a Addis Abeba, Nairobi, amò tantissimo, dimostrandolo con innumerevoli presenze fisiche, ma soprattutto con iniziative di tipo concreto. Ragioni che non possono non indurre il primo cittadino di Sciacca a parlare di perdita incolmabile per la cultura, la scienza, l'archeologia. Sciacca, aggiunge il sindaco, lo piange perché in ogni occasione Sebastiano Tusa ha dimostrato di essere molto vicino alla nostra città, alla sua storia, al suo patrimonio, a quanti si spendono quotidianamente per valorizzare al meglio beni preziosi e spazi, per fare cultura, per diffondere conoscenza, per prendere coscienza della propria identità e del proprio valore come leva per la crescita e lo sviluppo di un popolo di un intero territorio. L'archeologo viene poi definito una spugna impregnata di saperi mai fini a se stessi, saperi che Tusa mise a disposizione di tutti, non negando mai la propria presenza e il suo richiesto e prezioso contributo. A Sciacca, in occasione della recente lezione magistralis sullo storico archeologo Tommaso Fazzello, Tusa si presentò, nonostante la sua evidente indisposizione fisica, incantando il numeroso pubblico di San Domenico per la semplicità e pienezza delle proprie parole. Gli ultimi impegni per Sciacca da parte di Sebastiano Tusa hanno riguardato l'obiettivo di realizzare finalmente l'attesissimo Museo Regionale di Sciacca all'interno del complesso monumentale di Santa Margherita, anche attraverso l'acquisizione al patrimonio regionale della collezione di reperti archeologici di proprietà della famiglia del compianto avvocato Primo Veneroso. Sono tantissime le reazioni oggi alla morte dell'archeologo, ci sono anche quelle dei gruppi archeologici di Sciacca, il nucleo saccense che fa capo a Lillo Sant'Angelo mette in evidenza l'importanza e il ruolo di Sebastiano Tusa per l'archeologia del mare per Sciacca, città che deve all'archeologo la musealizzazione dei reperti archeologici rimenuti nel mare saccense grazie alle campagne di scavo da lui autorizzate e condotte proprio dai gruppi archeologici d'Italia, sede di Sciacca. La cume di Sebastiano Tusa, si legge nella nota di oggi, contribuì alla nascita della soprintendenza del mare e proprio a Sciacca si è determinato sin dal 2004 quell'approccio sistematico alla cultura, alla tradizione, alla storia del rapporto tra l'uomo e il mare con cui è operato, ha affrontato tematiche, studiato siti e relitti inerenti l'evo antico ma anche quelli medievali e moderni, nonché le tradizioni marinare contemporanee. Sciacca grazie a Tusa e al Museo del Mare, vero tesoro di memoria per attivare campagne di studio, di tutela, di vigilanza, di fruizione del patrimonio archeologico subacqueo, storico, naturalistico e demo antropologico del mare saccense.